Grazie a tutti, grazie a tutti, per quanto riguarda il tempo, per quanto riguarda l'importanza femmina. Ma il fatto che una girl band non ha mai vinto questo award, è un'esercizio. E' un'esercizio. Non rende mai senso. Pensi di che le band che venivano prima di noi, mi sono scusate. L'informazione di La Press è sempre a casa tua. Metti like a questa news e iscriviti al canale.